Buona domenica cari amici di Padre Pio TV e benvenuta all'appuntamento con Natale con i tuoi. E bentrovata anche a te Angelo. Bentrovata a te Arianna. Accogliamo con gioia in questa domenica tutti i nostri telespettatori direttamente da qui, San Giovanni Rotondo, nello studio di Viale dei Cappuccini. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso la pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio e tutti coloro che ci seguono sul nostro canale YouTube Padre Pio TV e Instagram. Ma salutiamo anche tutti coloro che guardano la nostra TV in streaming su teleradiopadrepio.it e ricordiamo che mancano soltanto 13 giorni a Natale. Infatti Angelo, siamo già arrivati alla terza domenica dell'Avvento, che è caratterizzata dal tema della gioia. La gioia qualifica il cristiano, non in quanto non sente più la sofferenza o tutto gli va per il meglio, ma per il fatto che il cristiano sa che il padre lo ama e che il figlio ha dato la vita per lui. La nostra gioia nasce dunque dall'esperienza che facciamo di Dio a motivo del suo riempire di senso la nostra vita. Laddove non c'è gioia, non c'è consapevolezza di Dio. O meglio, non c'è vera fiducia in Lui e nella Sua parola che è promessa di salvezza. Questa domenica, Gaudete, ci ricorda quale deve essere la nostra testimonianza davanti al mondo. Dare ragione con gioia della speranza che è in noi.